E' voglioso di iniziare perché tanto che ci stiamo allenando che stiamo facendo fatica quindi ci mancano le partite quelle serie anche perché per colpa nostra siamo usciti subito alla prima che contava, quindi vogliosi per rifarci subito. Da dentro l'impressione è buona, molti siamo quelli dell'anno scorso, i nuovi si stanno integrando bene, è l'allenatore nuovo ma si fa capire subito, ha fatto il giocatore fino a poco tempo fa quindi sa come funziona e lo vedo bene, adesso ci sarà la prova del nove. Poi penso che la squadra sia sempre in assa quella da loro, che ha vinto due campionati, sono amici quindi verranno qui sicuramente con grande voglia, con grande determinazione e quindi sarà una partita davvero inzitosa, però poi davanti se noi riusciamo a fare quello per cui stiamo lavorando già da un po' possiamo e dobbiamo farcela. E' sempre una questione di cuore in quello che ognuno fa, poi ci vuole il cuore, la passione che devono essere sempre in prima linea rispetto agli interessi o altre costanti, quella dell'Arezzo è lo slogan pubblicitario della campagna abbonamenti ma che sarà poi secondo me il motivo principale di tutta questa stagione, è una questione di cuore, sintetizza quello che per noi è poi l'Arezzo. Credo che la squadra sia un ottimo gruppo fatto prima di tutto da uomini che da giocatori e da tali devono dimostrare che già da domenica si vedono queste condizioni. Credo che i ragazzi non tarderanno e quindi daranno il massimo già da domenica e come in tutte le partite in divenire per dimostrare che sono veramente all'altezza di stare in una squadra come l'Arezzo, di nonare la maglia ma soprattutto proprio per una questione di cuore.